Andrea Caponi, amichevole a Forte dei Marmi, vittoria di misura ma test utile per l'avvicinamento al campionato. Sì, sì, vincere, aiuta a vincere, quindi anche se erano amichevole, insomma c'è stato il cambio dell'allenatore, quindi bisognava trovare un assetto diverso, siamo impegnati al massimo e questa vittoria ci dà morale per continuare così. In settimana arriveranno i gironi, cosa ti aspetti? Probabilmente tanti derby. Sì, sì, mi aspetto che saremo messi nel girone centrale, ci saranno come hai detto tanti derby e speriamo di vincerli.